il cattivo lo diventa quando sente che la figlia viene umiliata fino a quel punto quindi lo diventa però non avrebbe benato nessuno quel personaggio è il tradimento totale beh insomma però ti dico guarda la corona suona di questo film fu molto buona poi nel finale presi come come musica di repertorio moby ma sono stato prima io e poi di caprio a prendere il film perché l'ho chiesto prima io soltanto che lui è un po' compete con quei film però mi ricordo che avevo capito che era un brano veramente di grandissima atmosfera ed era proprio giusto dopo la barzelletta lasciare un po' quella malinconia di lui che poi lascia il pubblico guardando in macchia quella è stata una delle sequenze più difficili da recitare per me perché raccontare una barzelletta raccontarla bene non doverla sbagliare perché doveva essere alber in realtà non l'abbiamo girato al tramonto eravamo dieci minuti di luce perché dopo sarebbe diventata un'altra cosa io non dovevo sbagliare la prima l'ho fatta e ho detto posso fare meglio però tutti mi dicono guarda che l'hai fatta bene posso farla meglio ho provato la seconda volta non avevo più lo stesso ritmo della prima ho provato la terza volta non avevo ancora neanche più il ritmo della seconda ho detto lasciamo la prima speriamo bene ma ti volevo chiedere questo film data anche il crescendo emozionale emotivo ma tu l'hai girato cronologicamente o questa sequenza l'hai girata molto prima rispetto ovviamente a quella del film che è il finale poi no questa l'ho girata verso il finale proprio del film è una delle rare volte che sono riuscito a girare il finale verso il finale del film si no è stata è stato importante questo